Hillary Clinton c'è, per esempio, la mail all'allora ministro dell'Arabia Saudita, il principe Saud al-Faisal. Hillary Clinton gli aveva scritto per avvisarlo che Wikileaks aveva messo le mani su documenti e cable segreti. Ci sono poi gli iscritti che la inchiodano mentre, pur essendo al governo con Barack Obama, metteva becco sugli affari interni del partito. Fuori tempo massimo, il Dipartimento di Stato guidato dal repubblicano Rex Tillerson ha pubblicato un gruppo delle famigerate mail che fecero perdere alla Clinton la corsa alla Casa Bianca. Era tutto nel computer del dell'ex deputato democratico, Anthony Weiner, un personaggio controverso che da novembre sta scontando una condanna a 21 mesi per aver inviato messaggi osceni a una 15enne. Proprio per cercare quel fotografie pornografiche l'FBI si imbattuta nelle mail. Segrete. Della Clinton. Cosa ci facevano l? Al tempo Weiner era spostato. Ora non lo pì. Con il consigliere p stretto di Hillary. Uma Abedin. Fu, quindi, l'allora direttore dell'FBI, James Comey, licenziato per le indagini sul Russia Gate dal presidente James Comey il 9 maggio scorso. Ad annunciare la loro esistenza a 11 giorni dalle elezioni presidenziali dell'8 novembre 2016. Salvo poi, a pochi giorni dal voto. Ammettere che, pur essendo stato un comportamento estremamente negligente, non aveva ravvisato alcun elemento rilevante. Il Dipartimento di Stato ha stato costretto a diffondere queste mail in base ad una richiesta formale di Judicial Watch, un gruppo conservatore ma senza specificare cosa contengano queste mail. Come fa notare la CNN. Le email inviate dalla Abedin LPC del marito per stamparle. bench non fossero segnate come confidenziali. Contenevano materiale segreto. Tanto che il testo di quelle pubblicate dal Dipartimento di Stato pieno di omissi sei d'intere. Pagine annerite.